La prima, la prima, letteralmente la prima cosa che posso fare per darvi un buon consiglio da amico quasi, da fratello maggiore se siete più piccoli o semplicemente da amico se siete più grandi, è di guardarvi la conversazione che è avvenuta tra Ken Aldiz e Alessandro del Piero al termine di Juventus PSV, perché è veramente bellissima, è un'emozione, io vivo il calcio anche per queste cose qui, forse soprattutto per queste cose qui, io mi faccio catturare da questi momenti, quindi veramente il regalo che vi faccio se ancora non l'avete vista andatevelo a vedere, perché è meraviglioso, è meraviglioso vedere Ildiz così emozionato, a tal punto da chiedere scusa del Piero per avergli sottratto un record di cui parleremo dopo, per doversi scusare per il suo italiano che comunque è un buonissimo italiano per un ragazzo che è in Italia da un anno e poco più, è una buonissima pronuncia anche se vogliamo, ha sbagliato magari un paio di robe ma ci puoi passare sopra tranquillamente e significa che il ragazzo sta iniziando a cercare di immedesimarsi sempre di più all'interno di una realtà, la Juventus che lo sta rendendo sempre più protagonista ed è bello vedere l'emozione, davvero, e sentire Ildiz che dice scusate sono un po' emozionato in questo momento, andatevelo a ripescare, è veramente corta, c'è anche del Piero che commenta il gol di Ildiz, lo va ad analizzare in maniera proprio tattica anche con la sovrapposizione di cambiazione eccetera eccetera, fatevi questo regalo, così come ieri sera la Juventus ha fatto il regalo a noi, perché questa è la Juventus nei titolari più giovani di sempre schierata in Champions, abbiamo detto pizza ai fichi, abbiamo detto la più giovane di sempre schierata in Champions e ha vinto, e ha vinto per 3 a 1. Ildiz ha rubato, rubato a Del Piero un record, e cioè quello del calciatore bianco-nero, marcatore bianco-nero più giovane di sempre in Champions, con buona pace di Del Piero che secondo me è anche contento di vedere crescere all'ombra di quel numero 10 un nuovo piccolo grande giocatore e tra l'altro Ildiz va a completare il trittico, fa il triplete di esordi perché l'esordio in campionato, l'esordio in Coppa Italia, l'esordio in Champions League, gol, gol e gol è mica male, per niente male, anzi tanto tanto bene, quindi sono felicissimo di poter sorridere pensando anche a questi traguardi e soprattutto di potermi gustare la crescita di un ragazzo che mi ha fatto tanto, tanto emozionare in queste prime parti, in queste prime apparizioni di carriera juventina e avete visto anche dal video della live reaction al gol di Ildiz, mi gaso sempre, tantissimo, perché rivedo delle giocate familiari, quelle giocate che mi hanno fatto innamorare di questo sport, quelle giocate che mi fanno stare bene e sono contento semplicemente quando le fa, un ragazzo come Ildiz ha maggior ragione perché so tutto quello che c'è dietro queste giocate, tutto quello che è stato l'amore, il sogno di vestire quella maglia della Juventus, la maglia numero 10, di fare quella linguaccia, di fare quelle giocate, di provare quelle giocate, il sogno che da bambino cullava e si portava dentro, ora in realtà, e io spero che davvero la carriera di Ildiz possa essere grandissima e avvicinarsi anche solo lontanamente a quella splendida del capitano, perché significerebbe comunque divertirsi e non poco, osservando giocare questo ragazzo che si merita tanti tanti complimenti. E poi invece passiamo a Tiago Motta, passiamo a Tiago Motta perché mi è piaciuto il lato più umano, il lato più vero di Tiago Motta, perché durante le conferenze stampa i giornalisti o gli opinionisti sono andati un pochettino poi a scavare, a trovare il bandolo della matassa, e cioè che Tiago Motta non è stato completamente soddisfatto della partita. E voi direte, ma come? Ma davvero? Sì, è lo stesso mister che ce lo spiega. Tanto risponde a cosa gli è piaciuto e dice la concretezza e la determinazione che è stata utilizzata dalla Juventus per concludere le azioni e per andare in vantaggio. Gli è piaciuto andare in vantaggio. Io avevo parlato nel post partita di questi problemi che probabilmente oggi ha la Juventus nel cercare di sbloccare le partite. Quando riesce a sbloccare le partite riesce ad andare sul lungo, quando non ce la fa invece difficilmente vince per un gol a zero, anzi se non fa tre gol ne fa zero, questo è quello che sappiamo oggi dall'evento di Tiago Motta. Non andrà per forza di cose sempre così, saranno delle partite che si vinceranno anche con un solo gol di scarto, delle partite in cui si andrà sotto, quindi sarà interessante anche vedere queste nuove possibilità, perché comunque sono apertissime all'interno del mondo del calcio di una partita. Però Tiago Motta ha detto che queste sono le cose che ha apprezzato principalmente. E poi dice, ho detto ai miei giocatori che il gol subito è quello che mi preoccupa di più, tante altre cose possiamo far meglio sicuramente. E poi invece, tornando sulla stessa risposta, una giornalista gli dice, quindi il gol subito è una cosa che mi ha preoccupato di più? Tiago Motta dice, no no no, ho detto che il gol subito è quello che mi preoccupa di meno. In realtà aveva effettivamente detto di più, quindi tutti i giornalisti in sala stampa gli hanno fatto notare e dice, ok, mi scuso, io no, il gol subito alla fine, l'ho detto anche ai miei calciatori, è la cosa che mi preoccupa di meno. È ovvio che dà fastidio il fatto di aver sporcato quella casellina alla voce di gol mai subiti fino adesso. È ovvio che disturbi un pochettino quella disattenzione e distrazione nel finale, però effettivamente se stiamo a preoccuparci per un gol subito sul 3-0, praticamente al novantesimo, significa che di problemi ce ne sono pochi, magari fossero sempre questi i problemi, di aver subito il gol del 3-1. Io firmerei qui un foglio in cui tutte le partite sono 3-0 e l'unico problema della partita alla fine è subire il gol del 3-1 al novantesimo. Firmo, datemi carta e penna, faccio assolutamente una firma. e dice siamo stati concreti, però possiamo fare meglio col pallone di tre piedi perché abbiamo giocatori forti. E qui si inizia un po' ad annusare dove vuole andare a parare Tiago Motta. E dice io non so come serve alla perfezione, ma vogliamo migliorare. Siamo una squadra forte, con giocatori forti e soprattutto ci deve essere l'esigenza di migliorare sempre. Non vogliamo accontentarci del 2-0, non vogliamo accontentarci di un risultato, non vogliamo accontentarci di un modo di giocare, vogliamo essere predisposti nel cercare sempre qualcosa di meglio da poter fare. Poi il motivo è arrivare al risultato, ma al risultato ci arriviamo attraverso queste cose. Questo è il più grande cambiamento di mentalità che dovrà fare questa squadra, che aveva sempre preso negli ultimi anni, solo il risultato invece. Tiago Motta il risultato ci vuole arrivare, e lo specifica anche in una risposta che darà dopo. Però lui ci vuole arrivare perfezionando, anche se dice la perfezione è una roba che non esiste, è il miglioramento la parola chiave. Ed è bello sapere che anche durante un esordio in Champions League da allenatore, con una vittoria per 3 a 1, quando fino a un secondo alla fine eri con la porta inviolata per la quinta volta su 5 consecutiva, tu vada a pensare a quello che devi migliorare. Chi si ferma è perduto nella vita e nel calcio, e quindi questo è assolutamente l'insegnamento migliore. Perché Tiago Motta mi piace? Perché ti parla della prestazione, ti parla di quello che devi migliorare, ti parla di tutto e poi ti dice, anche se alcune cose non mi sono piaciute, oggi abbiamo vinto, la vittoria fa sempre bene, perché lo sa anche lui, lo dice anche lui, tutto questo si fa in virtù in funzione di una cosa superiore, e cioè arrivare al risultato. Meno male, meno male che si possono prendere in considerazione entrambe le visioni, per fortuna. Stasera a differenza di Limpoli siamo arrivati in tempo a riempire l'area di rigore, e poi c'è un parallelismo con Lippi che gli fanno, e cioè anche Lippi quando ha fatto l'esordio e allora Tiago Motta taglia tutto, dice, di Lippi io vorrei avere tutto, ma i paragoni non fanno bene, i paragoni non mi piacciono, lui ha fatto grandi cose, è storia, è da ammirare, ma io sono io e cerco di fare del mio meglio, penso al presente per lavorare al massimo e aiutare i miei calciatori. Lippi è storia e anche di questo grande club, per lui io ho solo ammirazione. fa capire chiaro e tondo, noi abbiamo iniziato il video col parallelo, queste sono cose che secondo me al tifoso fa bene ripercorrere, rivivere quei momenti lì, mi ha ricordato quella cosa lì, al tifoso fa benissimo, all'addetto al lavoro fa malissimo, quindi è giusto che i protagonisti respingano con forza. Ildis deve dire che non è il nuovo del Piero, Ildis deve dire che è Ildis, Tiago Motta non può dire sono il nuovo Lippi, Tiago Motta è Tiago Motta, uno di loro deve avere un'identità precisa, poi che si sa lasciati ispirare, che abbiano visto le gesta, che abbiano profonda stima di determinati protagonisti, questo credo che sia un dato di fatto e se lo devono tenere dentro, perché è professionale anche così, piuttosto che mettersi qua a dire sì, sono io il nuovo, no, sarebbe anche un bruttissimo messaggio dal punto di vista comunicativo da passare, quindi è giusto così. E poi gli dicono, ma quindi abbiamo capito che non ti è piaciuta completamente la Juve, che cosa c'è quindi da migliorare dato che l'hai ripetuto tante volte? E lui dice, oggi durante quasi tutta la partita abbiamo subito tanto il gioco del PSV. Il PSV non mi è sembrata una squadra che è riuscita a convertire tanto. Quindi Tiago Motta non parla di gioco che ha portato alle occasioni, parla semplicemente della gestione del possesso della palla. E infatti dice, possiamo fare molto meglio in possesso. E non solo per una questione estetica, ma a questo livello e per competere contro squadre che vogliono il pallone per arrivare al risultato, abbiamo fatto bene solo a tratti e noi dobbiamo mantenere questo livello durante tutta la partita o comunque durante gran parte della partita. Tiago Motta va letteralmente fuori di testa, anche se non lo vuole dare a vedere, ma era palese, bastava vedere la sua faccia, era molto triste da questa cosa qui, per questa cosa qui, fino a quando non si è sfogato, non ha svuotato il sacco, l'ha tirato fuori, ha fatto capire sì il risultato meraviglioso, bellissimo, l'ha definito interessante, una cosa positiva perché ci fa vincere, però quella roba lì, gli è rimasta lì, gli è rimasta dentro, perché? Per un motivo, la Juventus fino ad oggi nelle altre partite era sempre stata la squadra con più possesso della palla, anche contro la Roma, anche contro l'Empoli, che la Juventus non è riuscita a convertire, però il pallino del gioco l'ha sempre avuto la Juve di Tiago Motta in tutte e quattro le partite prima di questa di Champions, e allora lui dice, dato che in Champions difficilmente troverai l'Empoli di turno, la Roma di turno, fa la barricata e poi riparte, cosa che invece probabilmente farà il Napoli, lui dice, giocheranno molto sulle transizioni, prepariamoci le due fasi, ma soprattutto le transizioni perché giocheranno in transizione, però lui probabilmente è già orientato quando si andranno ad affrontare determinate squadre e un certo impatto, esempio Manchester City, il City sicuramente vorrà fare la partita, sicuramente vorrà avere il pallone, allora Tiago Motta è già lì, quando in Champions il livello si alza e trovi le squadre che vogliono fare quello che vuoi far te, tu devi essere più bravo degli altri, se no quello che vuoi far te non riesci a farlo, e migliorare, sempre, e non accontentarsi del risultato, non accontentarsi dei due gol di scarto, o che potevano essere tre, o del fatto che, no, niente, benissimo, bellissimo, il risultato ci dà energia, ci carica, ci deve dare qualcosa di positivo, però migliorare, sempre, perché se no chi si ferma è perduto. Bellissimi messaggi secondo me, anche il fatto che un allenatore riesca a essere onesto e sincero dopo una vittoria in esordio in Champions League, così, e dire sì, bene, bello, virgola, però puntini puntini, e poi ti spiega la sua visione del calcio. A me è piaciuta molto questa intervista post partita di Tiago Motta.